Davide Bonedu, consigliere nazionale del sindacato nazionale Geology, tra qualche giorno presenterete alla giunta regionale la richiesta che venga applicato in Sardegna l'equo compenso che è legge nazionale ma per il quale mancano i decreti attuativi. La regione toscana ha già provveduto, quello che chiedete è che anche nell'isola venga applicato. Esatto, la nostra iniziativa intanto potrebbe andare nelle potenzialità a interessare 70.000 lavoratori autonomi in Sardegna e 30.000 liberi professionisti stiamo parlando probabilmente del comparto produttivo che cresce in termini percentuali in misura più importante rispetto al comparto produttivo a Sardegna quello che noi chiediamo è che tutte le prestazioni prodotte dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti prestazioni richieste dalla committenza siano sempre e comunque tutte pagate. Per fare un esempio con quello che è del mondo della libera professione purtroppo in passato sono proliferati molto i cosiddetti bandi con l'offerta migliorativa. Nell'estrema sintesi l'offerta migliorativa altro non è che lavoro a titolo gratuito che il professionista purtroppo deve produrre per rendere più accantivante la propria offerta. Oggi io credo che sia arrivato il momento anche per il mondo dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti di in qualche modo vedere nel mondo della propria attività lavorativa e anche quindi nella sua retribuzione una forma di gratificazione e una fonte dignitosa di lavoro e di dignitosa prospettiva di vita. Grazie a tutti.